Dalle prossime settimane l'attenzione dei sindacati, dei movimenti e del mondo della scuola in genere sarà concentrata tutta quanta sulla legge di bilancio 2020. Non per questo il tema della regionalizzazione passerà in secondo piano, anche perché le regioni più direttamente coinvolte, e cioè la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, non sembrano per nulla intenzionate a fare un passo indietro rispetto alle loro richieste. Anzi, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha già mandato dire che in caso di inerzia del governo centrale la sua regione è pronta ad approvare una legge per assumere tutte le competenze possibili in materia di istruzione. Una mezza apertura, per la verità, c'era stata qualche giorno fa da parte del ministro per gli affari regionali Francesco Boccia del PD, che aveva dichiarato che non è da escludere che possano essere le stesse regioni a definire gli assetti sulla scuola e il numero degli studenti e di conseguenza, ha detto Boccia, può essere proprio la regione a stabilire se una classe deve avere 15 o 25 studenti sulla base delle caratteristiche territoriali, la demografia e che cosa accade nelle valli. Meno conciliante il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che ribadisce che l'autonomia differenziata nella scuola non si fa e non si farà. Mentre il ministro 5 Stelle dello sviluppo economico Stefano Patuanelli afferma che l'autonomia a scuola può avere un senso perché nelle nostre regioni dobbiamo capire le diverse esigenze formative. I sindacati per parte loro sono in fibrillazione. La FLC CGL chiede al ministro Boccia di dire chiaramente che la scuola in nessun suo aspetto può subire misure regionalizzatrici. Ancora più netta la posizione della will scuola. Siamo ferocemente contrari a che il modello della sanità venga applicato alla scuola. Molto radicale la critica del movimento per il ritiro di qualunque progetto di autonomia differenziata che proprio nella giornata di ieri, domenica, ha organizzato a Roma una assemblea nazionale per ribadire un secco no ad ogni ipotesi di trasferimento alle regioni di competenze in materia scolastica. Ovviamente di questo tema noi continueremo ad occuparci perché è un tema caldo, ogni giorno ci sono delle novità importanti, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche e soprattutto nel nostro portale www.tecnica della scuola. Scriveteci e mandateci i vostri commenti, noi ne parleremo e li pubblicheremo. Grazie. 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 Grazie.